Buonasera, bentrovati per questa edizione del nostro telegiornale. Partiamo con una notizia che arriva da Palermo. Ben 3,16 miliardi abbattuti in un anno. Il disavanzo della regione siciliana passa da 4,03 miliardi di euro del 2022 a 897,94 milioni del 2023. E quanto emerge dal rendiconto per il 2023 della regione approvato questo pomeriggio dal governo di Renato Schifani? È un grandissimo risultato, ha detto il presidente della regione Schifani in conferenza stampa, Palazzo d'Orlean, insieme all'assessore all'economia Alessandro Dagnino e al regioniere generale Ignazio Tozzo. A questo miglioramento hanno contribuito le maggiori entrate tributarie, maggiori accertamenti, risparmi di spesa per funzionamento, uffici, emissioni, energia elettrica, le regolazioni contabili delle imposte. E' il caso della bretella di Tre Fontane a Paternò a Proda all'Ars grazie ad un intervento della deputata regionale della PD Ersilia Saverino. Il comune starebbe lavorando al progetto. Vediamo. Si torna a parlare della bretella di Tre Fontane a Paternò, snodo viario, i cui lavori si sono conclusi nell'ottobre del 2012 e che già poco dopo l'apertura al traffico aveva mostrato segni importanti di cedimento. Un collasso dell'infrastruttura in alcuni punti del suo tracciato che aveva portato l'ente comunale a decidere di chiuderla al transito veicolare. Nonostante i 5 milioni di euro spesi, nonostante lo snodo sia fondamentale per il flusso viario delle tante aziende obbligate nell'area ZES di Tre Fontane, oltre ad essere stato indicato come via di fuga in caso di emergenza dalla protezione civile, nulla è stato fatto ad oggi e tra comune e impresa costruttrice resta aperto il contenzioso in tribunale con l'obiettivo di accertare le responsabilità. Sul caso, un anno fa, la deputata regionale del PD, Ersilia Saverino, presentò all'Ars una richiesta di accesso ispettivo firmata da tutti i parlamentari del PD per verificare cosa fosse accaduto. Qualche giorno fa, sull'argomento, ha risposto l'assessore regionale delle infrastrutture, Alessandro Aricò, che è evidenziato, come è stato informato dal comune di Paternò, che l'ente ha attivato la procedura per il progetto definitivo che verrà consegnato nei prossimi mesi. L'importo di ripristino della bretella ha evidenziato sempre l'assessore Aricò e di circa 2 milioni e 700 mila euro. Il progetto, secondo quanto dichiarato dal comune, è stato incardinato all'interno delle risorse relative al Festra 2023-2027. L'assessore Aricò ha aggiunto inoltre che il progetto verrà proposto dalla coalizione territoriale competente per il territorio nell'asse relativo al miglioramento della viabilità territoriale, a seguito del finanziamento dei progetti dell'espletamento della gara, i cui lavori dureranno circa 12 mesi. Oggi noi, con un progetto che è costato ben 5 milioni, è inaugurata nel 2012, già dopo neanche un anno è iniziato a evidenziare crepe e cedimenti vari, per cui è stata costretta la chiusura. Oggi è diventata soltanto una discarica pubblica, per cui sono contenta di apprendere che c'è un progetto. Spero veramente che sia così, che si riesca a concludere in 12 mesi, perché credo che veramente questa bretella, questa strada è stata veramente chiusa da troppo tempo. Anche questa, le ripeto, Assessore Ricò, 31 ottobre 2023 come presentazione. Quindi finalmente, almeno mi sento parzialmente soddisfatta, sperando che veramente in 12 mesi possiamo avere l'inaugurazione di questa strada. E sull'argomento è intervenuto anche il PD cittadino, che in una nota evidenzia. Viene detto che è in fase di realizzazione il progetto e che potrebbe essere finanziato. Certo, crediamo pochissimo ai proclami del Comune di Paternò, dicono dal PD paternese, perché annunciano sempre di avere milioni da spendere in opere pubbliche, ma non vediamo mai iniziare lavori e quelli che hanno il via restano bloccati per anni ed anni. Saranno i papai in difficoltà di Catania a beneficiare di una delle 13 chiavi benedette da Papa Francesco in occasione della giornata mondiale dei poveri. Le chiavi in bronzo sono simbolo dei primi 13 alloggi del progetto 13 case per il giubileo, iniziativa dell'alleanza della famiglia vincenziana con le persone senza tetto in Italia. La prima verrà dunque realizzata a Catania e si chiamerà Abba Padre. Il progetto promuoverà soluzioni abitative fino a novembre 2025 in altri stati. Tra questi ci sono la Siria, l'Australia, il Brasile, la Cambogia, la Repubblica Centroafricana, il Cile, la Costa Rica e poi ancora il Senegal, la Tanzania, Tonga, il Regno Unito e l'Ucraina. Ultima decade di novembre difficile per la sanità, per il trasporto e più in generale per tutti i servizi per effetto di diversi scioperi che culmineranno nell'agitazione generale del prossimo 29 novembre indetta da CGL e Villa. Nel Mirino finisce la manovra finanziaria del governo Meloni. Vediamo. E' un autunno caldissimo sul fronte sindacale, quello del 2024 nel bel paese. Una raffica di scioperi di diversi comparti caratterizzerà l'ultima decade di novembre con il botto finale giorno 29 con lo sciopero generale proclamato da CGL e UIL. Ad aprire le danze sarà domani, mercoledì 20 novembre, la sanità con una manifestazione a Roma. Medici e dirigenti sanitari di Anao Assomed e Cimo Fesmed e infermieri ed altre professioni sanitarie del sindacato Narsing Up incroceranno le braccia dalla mezzanotte. A rischio di rinvio le visite specialistiche, gli interventi chirurgici, i servizi assistenziali e le prestazioni infermieristiche ed ostetriche, gli esami radiografici. Verranno garantiti servizi essenziali ed emergenza, pronto soccorso, terapia intensiva, 118 interventi di chirurgia d'urgenza. Alla base dell'agitazione la manovra finanziaria e in particolare i minimi aumenti in busta paga, il blocco al piano da 30.000 assunzioni, la mancata defiscalizzazione dell'indennità di specificità. Nel fine settimana si bloccheranno i macchinisti ferroviari per uno sciopero dei sindacati di base. Lo stop ai treni partirà alle 21 di sabato e proseguirà domenica per 24 ore. Nel Mirino il rinnovo contrattuale nazionale delle attività ferroviarie. L'attenzione a fine mese, il 29, si sposterà sullo sciopero generale proclamato da CGL e Will contro la manovra finanziaria. I due sindacati, dopo l'invito della Commissione di Garanzia sugli scioperi ad escludere dallo stop i settori trasporti, sanità e giustizia, hanno accolto l'invito solo per il trasporto ferroviario. L'agitazione è stata indetta da CGL e Will per il taglio di risorse a sanità e istruzione, trasporto pubblico e denti locali, mentre salari e pensioni restano al palo. Anziché combattere efficacemente l'inflazione e recuperare il potere di acquisto di lavoratori e pensionati, sottolineano, si procede con condoni e concordati e con politiche fiscali che riducono la progressività. Frane a Randazzo in gara, il consolidamento del centro abitato. Schifani dice, interveniamo sulle fragilità del territorio. Indirittura d'arrivo il consolidamento del versante sud di Randazzo, nel Catanese. La struttura di contrasto al dissesto idrogeologico, guidata dal presidente della regione siciliana Renato Schifani, raggiunge un altro traguardo nella tutela del territorio. Il consolidamento e la messa in sicurezza riguardano, come riportato nel bando, l'area sottostante all'insediamento abitativo torrente annunziata. Gli uffici diretti da Salvatore Lizio mettono a disposizione 960 mila euro e c'è tempo fino al prossimo 20 dicembre per la presentazione delle domande. La manutenzione del territorio e la mitigazione del rischio idrogeologico sono per noi attività prioritarie, commenta Schifani. Siamo ben consapevoli infatti dell'importanza della prevenzione, che non vuol dire soltanto tutelare la vita delle persone, preservare il paesaggio e l'ambiente, ma anche conseguire un notevole risparmio sui costi. I risultati raggiunti sino ad ora sono estremamente positivi e per questo motivo proseguiremo senza sosta nel percorso intrapreso. Ancora poche settimane dunque potranno partire lavori che restituiranno la piena e sicura fluibilità del quartiere Santa Maria con le sue case che cingono il costone roccioso. Si tratta di un'area sulla quale si sono registrate frane e cedimenti del terreno e la sua alta classificazione di rischio ne è una conferma. Sono peraltro ben visibili le fessurazioni e le lesioni su strade ed edifici. L'area si sviluppa tra piazza Monsignor Mancini e Corso Umberto I, a pochi metri dalla Basilica di Santa Maria Assunta, preziosa testimonianza architettonica in stile gotico normanno. Tra le misure previste dal progetto, la collocazione di reti metalliche e di un sistema di chiodatura, ma anche una serie di funi di ancoraggio. Sulla parete rocciosa inoltre verrà effettuato il disgaggio delle parti instabili e verranno applicate reti metalliche di protezione e funi. Prevista anche la bonifica degli argili del torrente annunziata a valle del centro abitato e il taglio di arbusti e rovi. Adesso la pagina di cronaca. La polizia, su deleghe della DDA di Palermo, ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in caccia remessa dalla GIP nei confronti di Gaetano Savoca, 57 anni, accusato di associazione mafiosa con funzione di direzione e coordinamento delle famiglie che compongono il mandamento di Brancaccio. Savoca è ritenuto l'erede del Papa di Ciauculli, la capomafia Michele Greco. Secondo l'accusa, l'indagato avrebbe continuato a gestire gli affari di Cosa Nostra attraverso riservatissime riunioni e incontri programmati con altri mafiosi, soprattutto nei settori delle estorsioni e del traffico di sostanze stupefacenti, impartendo disposizioni e direttive sulle modalità attuative delle attività illecite. È una casa a luci rossa e gestita da una cittadina d'origine asiatica. È stata individuata dai carabinieri a Catania, nella quartiere stazione per la donna. È scattata la denuncia a segnalare l'attività ai militari dell'arma. Sono stati i residenti della zona. Vediamo. Via vai continuo di uomini di tutte le età. Questo hanno raccontato alcuni abitanti del quartiere stazione di Catania e Carabinieri in relazione al traffico intenso e fastidioso in uno stabile vicino alle loro abitazioni non distante dalla stazione centrale. E i militari sono entrati in azione tenendo d'occhio l'appartamento segnalato in cui hanno effettivamente notato l'avvicendarsi di uomini, agganciando una persona appena uscita che ha raccontato cosa avveniva nella casa, ovvero l'attività che tutti sospettavano, la prostituzione. L'uomo ha aggiunto di non avere consumato alcun rapporto per le precarie condizioni igieniche che aveva riscontrata all'interno. Nei carabinieri del nucleo operativo di Piazza Dante, fingendosi clienti, hanno bussato alla porta dell'abitazione dove una donna di 58 anni di origine asiatica li ha accolti senza insospettirsi, presentando il menu della casa. Per tutta risposta ha ottenuto una denuncia per sfruttamento della prostituzione. Il centro era presente anche fra gli annunci online nella categoria massaggi, che era stato notato dal cliente bloccato dai militari, che ha aggiunto di aver incontrato una donna la quale gli avrebbe comunicato che l'incontro sarebbe avvenuto con una connazionale, mentre lei si sarebbe limitata a intascare il denaro. Dopo essersi qualificati con la 58enne, i carabinieri hanno controllato i locali, trovando in una stanza a luci rosse un'altra donna di 60 anni e sul letto oggetti per le pratiche hard e bigliettini da visita. La 58enne che gestiva l'attività aveva in tasca 130 euro, probabile frutto delle prestazioni. e adesso la pagina di politica. Ieri sera in congresso comunale a Santa Maria di Licodia della democrazia cristiana, la presenza delle più alte cariche del partito. Alfredo Seminara è stato eletto segretario comunale. Vediamo. Dare una struttura ancora più efficiente al partito e fare riavvicinare l'agenda alla politica. Si è parlato di questo e non solo. ieri sera al Salone Museo Civico di Santa Maria di Licodia, in occasione del primo congresso comunale della DC, a cui hanno partecipato elementi di spicco della democrazia cristiana a livello regionale, provinciale e locale. Nuovamente DC e non nuova DC è stato detto negli interventi dei presenti, un partito che a livello regionale conta un numero cospicuo di deputati regionali all'arse in giunta. Tra gli interventi quelli del segretario nazionale Totò Cuffaro, dell'assessore regionale alle autonomie locali Andrea Messina, del deputato regionale Salvo Giuffrida, del segretario provinciale avvocato Piero Lipera e del coordinatore del collegio di Paternò e consigliere comunale di Adrano Giovanni Bulla. Democrazia cristiana che entra anche nella giunta licodiese in assise comunale con l'assessore Antonio Calanna, col presidente del Consiglio Maria Russo e della consigliera Caterina Piemonte, tra i punti discussi anche l'approvazione della proposta congressuale da parte dei tesserati. Santa Maria delle Corie, come in tantissimi altri comuni della Sicilia, la democrazia cristiana che è un partito si dà gli organi di governo, il segretario, il presidente, non una nuova democrazia cristiana, ma una democrazia cristiana nuova, una democrazia cristiana che ha fatto ammenda dagli errori del passato e che però parte dalla consapevolezza dei propri valori e della propria storia. Una democrazia cristiana che vuole essere un partito libero, aperto, plurale e democratico. Per questo facciamo i congressi. Ormai i congressi non li fa nessuno. Come se essere partito significa avere qualcuno dall'alto che ti indica. Noi invece stiamo un partito, facciamo gli iscritti, facciamo i congressi, apriamo un dibattito, consentiamo alla nostra gente di discutere, di dire come la pensa, di ragionare, di portare un contributo dentro le autonomie locali e dentro il governo della regione. Poi ci dico, lì io parlano di un possibile avvicinamento di Luca San Martino alla democrazia cristiana. Cosa c'è di vero? Assolutamente nulla. Luca San Martino è il leader di un partito regionale come la Lega, ha la sua rappresentanza, i suoi riferimenti nazionali, c'è soltanto un buon rapporto politico, lavoriamo per le cose che servono alla Sicilia ma non c'è nessuna ipotesi che lui venga dentro la democrazia cristiana perché credo che non abbia interesse a venire e perché la democrazia cristiana la sua storia va avanti con i propri percorsi politici che speriamo di poter portare in mezzo alla gente come abbiamo fatto oggi qui a Santa Maria di Licodia e far parlare loro perché ne prendano coscienza. A proposito di province, la data buona potrebbe essere aprile 2025? Aprile è la data già fissata per le elezioni di secondo livello, però non dimentichiamo che nel programma di governo è previsto anche l'approvazione di una legge per le elezioni di primo livello che subito dopo la finanziaria dovrebbe approdare in aula e speriamo che questa volta venga approvata dall'Assemblea. L'ultimo il bilancio arriverà entro il 31 dicembre in aula? Sì, certamente, già lo abbiamo approvato in giunta, già stamattina è iniziato l'idere nelle varie commissioni di merito e il calendario prevede che entro il 20 dicembre, forse la prima volta negli ultimi 20 anni, riusciremo ad approvare entro il 31 dicembre. Adesso si muoverà sempre nell'area di centrodestra? Noi, io l'ho detto anche in consiglio comunale, da consigliere della nuova democrazia cristiana, che essendo la nuova democrazia appartenere al centrodestra, ma non solo in Sicilia, ma anche in tutta Italia dove siamo presenti. Stiamo cercando di fare quadrato politicamente all'interno del centrodestra e quindi di essere presenti e dare anche un contributo all'azione amministrativa in tutti i comuni della Sicilia, ma soprattutto siamo presenti anche a livello delle grandi città sia a Catania e a Palermo e siamo anche presenti con i nostri amministratori, l'assessore Messina che è presente oltre ad essere deputata e anche assessore agli enti locali e con l'onorevole Giuffrida siamo presenti. Questi rappresentano per noi la nostra provincia, ma che danno con il loro impegno un'azione di propulsione per la crescita non solo della nostra democrazia cristiana, ma soprattutto dei territori a cui noi apparteniamo. Democrazia cristiana che entra anche nella giunta licodiese in assise comunale con l'assessore Antonio Calanne, il presidente del Consiglio Maria Russo e la consigliera Caterina Piemonte, presidente del Consiglio Comunale che passa alla DC, ma conferma almeno a parole i buoni rapporti con il sindaco di Santa Maria di Licoddia, buttò in barba chi afferma il contrario, anche se questo passaggio alla democrazia cristiana potrebbe aprire nuovi scenari politici con una sua ipotetica candidatura a sindaco. Io sono un'insegnante di religione tra l'altro, quindi mi sento una moderata, ecco, quindi la scelta del centro mi è sempre piaciuta. Quello che mi ha unito a cominciare questa avventura, le motivazioni sono state due, l'amicizia col sindaco e con altri del gruppo, continuo ad esserlo perché si è solo allargato il gruppo e poi la voglia di crescere, di imparare, che sarà sempre la stessa e più forte. E durante il congresso di ieri è stato eletto segretario comunale Alfredo Seminara, volto noto della politica licodiese. Incontro a Paternò a sostegno della ricerca sul cancro, l'iniziativa voluta dall'associazione Città Viva. È stata l'occasione per presentare il libro 6 e più personaggi in cerca di dottore di Salvatore Mazzarino. Vediamo. 6 e più personaggi in cerca di dottore e il libro di Salvo Mazzarino presentato a Paternò in biblioteca comunale. Nell'ambito dell'iniziativa Paternò incontra la ricerca a sostegno dell'AIRC, l'associazione italiana per la ricerca sul cancro. Ad organizzare l'evento, l'associazione Città Viva con l'evento moderato da Angela Pistorio. Presenti Stefano Callipo, presidente nazionale dell'osservatorio violenza e suicidio, lo psichiatra Carmelo Florio, la responsabile dell'osservatorio violenza e suicidio di Paternò Rosarita Virgilito e ancora il diabetologo Domenico Arcoria, l'attrice Barbara Cracchiolo, la cantante Rita Corsaro e Barbara Giuffrida Nicotra di AIRIC Catania. Il titolo è un pretesto, naturalmente la serata, così come anche la presentazione che è stata fatta ufficialmente a Catania il 5 ottobre, è tutto fatto in favore dell'AIRC, che è l'associazione italiana di SEP su cancro, a cui viene devoluto tutto l'incasso che spetta appunto all'autore del libro. Io ringrazio la signora Scavo per la grande opportunità di replicare la serata che abbiamo fatto a Catania. Ecco, il titolo ovviamente è un titolo scherzoso che tratta in maniera a volte anche grottesca quello che noi medici vediamo nello studio, quindi personaggi, aspetti particolarmente strani del carattere umano che comunque accadono veramente a cui il medico deve poi porre una soluzione. Trattano appunto aspetti dell'animo umano partendo da personaggi che sono personaggi normali oppure personaggi che io ho avuto modo di visitare a Roma personaggi più o meno famosi del mondo dello spettacolo, del mondo dello sport e del mondo della politica. Catania ovviamente la sicilianità offre dei personaggi che Carmelo Florio che ha curato la postazione del libro, è un medico psichiatra che si è prestato, lui anche un cabarettista, così come la prefazione è stata scritta dal magico e mitico Gino Astorina, quindi ci sono anche degli aspetti comici, quale di questi è più grottesco ovviamente lo lasciamo poi desidera a chi leggerà il libro. Ormai da anni Cittalile è impegnata nella ricerca, nella sensibilizzazione alla prevenzione, siamo stati presenti con l'Ottobre Rosa, parliamo di prevenzione di tumore al cozzeno e Paternò devo dire che è molto sensibile a questa tematica e alle risce con grande invasi, con grande spirito. Abbiamo accorto negli anni precedenti tanti ricercatori, tanti medici, stavolta lo facciamo in un modo un attimino più brillante come i brillante l'autore di questo libro, il rinnovato come agendecca il dottore Mazzarino va devoluto interamente alla fondazione AIRC e grazie all'AIRC, grazie a quello che si ricava con l'AIRC si devolvono delle borse di studio ai ricercatori per far sì che questo tumore possa essere definitivamente dernellato, questo è il nostro auschiccio. Vorrei solo precisare una cosa a favore dell'AIRC, l'AIRC è l'ente più importante dal punto di vista economico come pilattatore della ricerca e questo è una cosa che ci dovrebbe fare riflettere sia nella piccola offerta sia in un'offerta maggiore, ma comunque l'AIRC è il principale sponsor della ricerca. il nostro ultimo servizio si chiude questo spazio con la nostra informazione, grazie per averci scelto, buona serata. Grazie a tutti.